Dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico per tutte le classi prime delle scuole primarie e secondarie e ai corsi dei centri di formazione professionali regionali. Si fa tutto online. Per scegliere la scuola, entra nel portale Scuola in chiaro oppure inquadra il QR code della scuola dal tuo smartphone. Già a partire dal 27 dicembre puoi registrarti su www.iscrizione.istruzione.it Compila la domanda ed inviala. Tutto qui. L'iscrizione è fatta.